Grazie Buonasera a tutti Vi ringrazio chiaramente per la presenza Ho sentito tante promesse da parte dei nostri giocatori La promessa che vi posso fare io è che chi non lotta, chi non gioca, chi non si... Con me non gioca qui, non c'è problema Mi promessa che l'hanno fatto Sotto questo aspetto potete stare tranquilli perché chi non lotta non gioca O chi non vuole rimanere a Ferrara può andare dall'altra parte Non c'è più tempo Grazie Grazie cercheremo di regalarvelo questo sogno, di sognare tutti insieme non è facile però ci proveremo e vi garantisco che chi non lotta non gioca con me